Rischia di chiudere i battenti il reparto di terapia intensiva neonatale dell'ospedale di Crotone dopo 30 anni di attività, con la conseguenza paradossale dell'esodo dei prematuri nelle terapie intensive di Catanzaro e Catanzarese, dove oggi vengono trasferiti nel team di Crotone circa 10 prematuri all'anno e gestanti con gravidanze a rischio di parto pretermine. A lanciare l'allarme il deputato Nicodemo Liverio, che annuncia la richiesta di un immediato intervento al ministro Beatrice Lorenzin e al commissario alla sanità calabrese Massimo Scura, sottolineando le grave disagio in termini economici e sociali delle famiglie. La terapia intensiva neonatale di Crotone è l'unica nella fascia ionica da tre bisacce a Crotone che al suo interno ha detto Liverio e attiva un servizio di cardiologia neonatale per bambini cardiopatici operati al cuore, che vengono seguiti anche in collegamento col Policlinico di San Donato Milanese e il Bambin Gesù di Roma. Per il parlamentare, depotenziare ulteriormente l'ospedale di Crotone significa abbandonare, in condizioni di assoluta debolezza e inadeguatezza, la struttura sanitaria pubblica, finendo per penalizzare le popolazioni di quest'area già profondamente colpita dai tagli degli ultimi anni.